Vieni a scoprire Baia Spa, centro benessere a due passi dal mare con un meraviglioso percorso relax di due ore. Baia Spa è anche centro massaggi e trattamenti estetici corpo, viso, magni e piedi. Inoltre puoi prenotare una serata esclusiva in spa completa di servizio aperitivo per il tuo compleanno o ricorrenza speciale. E per tutto il mese di ottobre se porti un amico, per te uno sconto del 50%. Grazie a tutti.